Ci sono partite che segnano una svolta, che danno segnali e producono risultati che poi alla fine della stagione emergono come decisivi. Il successo a Città 9 è uno di questi, perché coincide con l'allungo in classifica in un momento importante. Il carattere e la voglia di vincere ieri sono emersi in modo chiaro e hanno spinto la squadra a superare tutte le criticità. Il gol di svantaggio all'inizio della partita, il rigore del 2-2 e l'espulsione di Lancini. Nell'ultimo quarto d'ora il Palermo si è scatenato, ha avuto coraggio e voglia di spaccare il mondo. Sono arrivati due gol quando tutti pensavano al peggio. Sono arrivati tre punti che danno fiducia e autostima. Ad 11 giornate al traguardo la squadra rossanero ha voluto ricordare a tutti, anche a se stessa, di essere la più forte. Il gol di Peretti è stato bellissimo e carico di significati. Ha premiato un difensore centrale che è andato all'assalto in area avversaria. Un giovane che sta facendo registrare un rendimento elevatissimo. Pelagotti, Langella e Floriano sono stati altri protagonisti in una giornata in cui comunque tutti i rossanero hanno sfoderato una prestazione d'alta qualità contro un avversario tosto e apprezzabile. Una menzione la merita anche per Golizzi, che continua a ridere sotto i baffi. Le critiche feroci gli rimbalzano addosso. Tornano ai mittenti con una risposta abbastanza chiara. Hanno sbagliato decisamente obiettivo. Così sentenzia la classifica, la cassazione del campionato.